Io sono Claudio Culotta e sono un medico, attualmente in pensione, ho lavorato in Astra Genovese e insieme ad altri amici che sono in parte qui presenti abbiamo organizzato questo incontro. Ma io introduco con due parole di presentazione del nostro lavoro per chi eventualmente non lo conoscesse perché l'incontro di oggi non è il primo, quindi da settembre dell'anno scorso come circolo zenzero, naturalmente, circolo arci zenzero, però anche come associazione Ecoistituto Genova Reggio Emilia e la Lega dello SPI-CGL della Bassa Valvisagno abbiamo organizzato una serie di incontri, sei per l'esattezza, questo è il settimo, che fanno parte di un ciclo che abbiamo intitolato Sanità e salute, chi ci curerà domani? Col punto interrogativo. Sanità e salute, chi ci curerà domani? Quindi questo ciclo di incontri è dedicato alla nuova sanità territoriale, quella per intenderci definita dal decreto ministeriale 77 del 2022 nella prospettiva di dare risposte più efficaci e più appropriate ai bisogni dei cittadini. Quindi in questo ciclo di incontri, o più o meno ne abbiamo fatto uno al mese, abbiamo affrontato numerosi temi connessi con questa problematica che vi dicevo, cioè le nuove cure territoriali. Questi temi che abbiamo affrontato nello specifico riguardavano le case della comunità, i rapporti tra territorio e ospedale, la figura dell'infermiere di famiglia o di comunità, che è una novità del decreto 77, il fascicolo sanitario elettronico e abbiamo anche avuto modo di ascoltare esperienze di altre regioni, in particolare Toscana ed Emilia Romagna. Quindi abbiamo invitato rappresentanti, esponenti, medici, medici di medicina generale, ma anche dirigenti. Quindi abbiamo anche ascoltato queste esperienze di altre regioni. La nuova sanità territoriale, quella appunto delineata nel decreto ministeriale 77, prevede un cambio radicale della qualità delle cure primarie. Le cure primarie sarebbero quelle che noi abbiamo sempre individuato, identificato col medico di medicina generale. Ecco, il decreto ministeriale 77 prevede un cambio radicale dell'organizzazione e quindi anche della qualità delle cure primarie, che devono includere non solo l'assistenza, la tipica assistenza, la ricetta, la visita, eccetera. Ma anche le cure primarie devono includere anche la prevenzione primaria, la prevenzione primaria e la promozione della salute. Infatti, è ovvio, non si può pensare a una reale promozione della salute che coinvolga la popolazione, no? Senza il pieno coinvolgimento del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, per quanto riguarda l'età evolutiva. Ma perché questo possa accadere, bisogna migliorare le condizioni organizzative e strutturali delle cure primarie, perché attualmente ci sono diversi problemi. Anche i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta lamentano un sovraccarico di compiti di tipo magari burocratico e la mancanza forse di risorse professionali che li affianchino. È quindi necessario che sia rivisto e potenziato il ruolo del distretto sociosanitario e che i percorsi assistenziali all'interno delle case di comunità che dovranno venire, siano gestiti da equip multiprofessionali. Cioè noi siamo un po' abituati al medico che è nel suo studio o magari condivide lo studio con altri medici, ma ognuno lavora con i propri pazienti. Invece la nuova prospettiva è quella di equip multiprofessionali integrate, cioè che dovrebbero lavorare come un equip, con una presenza adeguata di medici di base, infermieri di famiglia o di comunità, altri operatori sociosanitari e con un'organizzazione di tipo orizzontale, questo è molto importante, atta a favorire e valorizzare la partecipazione delle comunità locali in qualità di coprotagoniste, cioè non in qualità di persone che magari vengono solo informate o ascoltate, ma in qualità di coprotagoniste perché la popolazione ha un ruolo attivo nella difesa della salute della propria comunità. Infatti le case di comunità, che molti chiamano case di comunità, sarebbe meglio forse chiamarle le case della comunità perché il senso di queste nuove strutture è proprio questo, cioè una casa della comunità in quanto articolazione del distretto sociosanitario può esistere nella misura in cui esiste una comunità locale, territoriale, che si sente tale e che si rende anche partecipe e appunto coprotagonista della creazione della salute, che spesso è una costruzione sociale, la salute spesso è una costruzione sociale, non è solo un aspetto tecnico professionale. Allora ovviamente le comunità locali sono essenziali anche per identificare i bisogni di salute di quella comunità, di quel territorio. Una parte importante di questi bisogni è quella relativa alla salute mentale. Quindi noi abbiamo tentato, stiamo tentando, vorremmo tentare di fare un collegamento fra le cure primarie e altri aspetti delle cure territoriali tra le quali abbiamo individuato come primo passaggio appunto i servizi di salute mentale. Per quanto riguarda la salute mentale bisogna sottolineare che il concetto di salute mentale è più ampio di quello di psichiatria. Cioè a volte quando si pensa ai servizi di salute mentale si dice ah sì sì sono quei servizi di psichiatria. Ecco non è giusto fare questo discorso. Il concetto di salute mentale è più ampio di quello di psichiatria e riguarda tutti. in quanto riguarda non solo il trattamento dei pazienti psichiatrici diciamo ma anche la prevenzione del disturbo mentale e la promozione del benessere della popolazione di cui il benessere psicologico relazionale sociale è una parte importante. E' quindi necessario prendere in considerazione non solo le cause più vicine, le cause più prossime del disturbo fisico o mentale ma anche quelle più profonde, più lontane che spesso sono di natura socio-economica, ambientale, relazionale e sociale. Ora nella nostra città esiste una tradizione importante di esperienza nel campo della tutela della salute mentale che ha portato abbastanza recentemente, cioè in particolare nel 2018, alla definizione di un patto per la salute mentale denominato la città che cura. Patto per la salute mentale denominato la città che cura. Che è stato siglato da circa 60 organizzazioni tra cui ovviamente l'ASL, tre genovese, l'associazione Ligure Familiari dei pazienti psichiatrici che qui adesso è rappresentata, poi vi presento il dottor Pecetto e l'associazione Quarto Pianeta che qui è rappresentata da Medeo Gagliardi. Questo patto prevede che l'assistenza ai pazienti con problemi di salute mentale e alla popolazione sia realizzata con la partecipazione non solo dei tecnici ma anche delle famiglie, delle associazioni e delle comunità locali. Quindi mi sembra che si tratti di principi generali molto simili a quelli che dovrebbero ispirare le nuove cure primarie e le case della comunità. L'ex ospedale psichiatrico di Quarto è uno dei luoghi dove vengono realizzate alcune attività connesse con il patto per la salute mentale. Un esempio è il cosiddetto, qualcuno lo conoscerà, forse non tutti, spazio 21, aperto alle attività socio-culturali del territorio e della città. Inoltre, sempre a Quarto, si sta organizzando la nuova casa della salute del Levante cittadino. La nuova casa della salute che dovrebbe essere la casa della comunità principale del Levante cittadino. Abbiamo quindi pensato di proporre alla discussione di questa sera il tema delle sinergie possibili tra il patto per la salute mentale e la nuova organizzazione delle cure primarie prevista nel decreto ministeriale 77. Il modello che si sta cercando di realizzare a Quarto sembra da questo punto di vista interessante perché già sono presenti nell'ex ospedale psichiatrico alcuni elementi fondamentali, non solo di tipo tecnico-professionale ma anche socio-relazionale, che sono confacenti alla natura, allo spirito e agli scopi della casa della comunità. Allora, io ho finito la mia introduzione, quindi per introdurre questo argomento abbiamo invitato alcuni dei principali promotori del patto per la salute mentale che sono naturalmente il direttore generale di Altre Genovese, il dottor Luigi Bottaro, un esponente del coordinamento dell'associazione Quarto Pianeta, il dottor Amedeo Gagliardi e il presidente dell'associazione Ligure Familiari dei pazienti psichiatrici, Alphap, che è il dottor Giorgio Pescetto e quindi io lascio loro la parola con priorità, diciamo in ordine temporale, al dottor Luigi Bottaro per un'introduzione degli argomenti che abbiamo proposto o per quanto riterranno di voler dire a cui seguiranno domande o brevi interventi da parte del pubblico dopo il primo giro di interventi dei relatori. Io pregherei appunto in questa prospettiva, se possibile, insomma di fare un intervento sui 20 minuti, poi vediamo naturalmente il tempo necessario e poi gli altri due amici relatori magari leggermente in tempi più contenuti per completare il primo giro di cose. Allora, grazie e lascio la parola. Grazie, grazie. Intanto grazie dell'invito, grazie dell'invito, un piacere oltre che, come dicevo prima, ha un dovere, perché nella pratica ci sono tanti amici, tanti colleghi. Sta funzionando, sì, scusate, perché l'unico limite che ho, lo dicevo, purtroppo alle 7 devo assentarmi, quindi il mio intervento cercherò di tenerlo molto meno dei 20 minuti, anche perché poi tantissimi di voi conoscono già le cose che sono state fatte, no? Diciamo che questo patto per la salute va subito sul patto della salute e poi entro anche un attimino sul discorso del PNRR, il decreto ministeriale 77, eccetera, eccetera. Se abbiamo iniziato nel 2018 vuol dire che abbiamo percorso i tempi, perché recentemente, per tutta una serie di ragioni, ho fatto un'esperienza personale che mi ha molto toccato, perché io credo che il mio compito, il compito del direttore generale, il compito dei colleghi che sono presenti in platea sia quello di servire la gente. Cioè, il mio primo obiettivo è la gente, all'interno il cittadino, inteso come paziente, inteso come familiare del paziente, inteso come, adesso si dice stakeholders, quindi vuol dire tutto il sistema che sta intorno. E dicevo, l'esperienza che mi ha fatto molto pensare, puoi dire che in Ciapas c'è il famosissimo subcomandante Marcos, no? Che è uno zappatista. Poi se uno va in Ciapas capisce perché sono zappatisti, no? Diventi immediatamente zappatista dopo tre secondi, perché è gente che difende la propria terra, ha proprio i diritti, perdono sempre, vorrei che fosse chiaro perché è un po' il destino dei più deboli. E ho chiesto, ma perché subcomandante? No, ma chi è il comandante? Il popolo. È bellissima questa roba qui, secondo me è una roba veramente fantastica, perché ti dice che gli interessi del popolo sono superiori a tutti gli altri interessi che ci devono essere. Poi è chiaro che un buon amministratore deve tenere presente in maniera oculata il servire il popolo, quindi la gente. Allora il patto della salute poi è nato per quello. È nato per quello perché giustamente, come ha detto l'amico Culotta, non si deve più parlare banalmente di psichiatria. Io qui ho il nuovo direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Astrac, il dottor Rocco Picci che, oltre che a essere un grandissimo professionista, è anche un amico, perché poi sul lavoro, se tutti condividiamo gli obiettivi, i percorsi, è anche bello che si creino delle sinergie anche da un punto di vista di questo tipo. Quindi se nel 18, e quindi ringrazio, poi magari se vuoi fare un saluto chiaramente perché iniziamo un ulteriore percorso, perché stiamo parlando di un dipartimento in cui ci sono più di 600 operatori. Ecco, quindi stiamo parlando di un'azienda nell'azienda. Altre sono 4.500 più 800 convenzionati, quindi sono 5.000 rotti. Quindi con delle problematiche veramente di tipo molto complesso. Però qual è stato l'idea? È stato quello di considerare il paziente come un cittadino a tutti gli effetti. Con il supporto si è creata una sinergia che sta andando avanti. Già da prima, però tutta la partita di quarto io l'ho conosciuta grazie a voi, grazie a loro, grazie ai colleghi che sono presenti anche in sala. Subito all'inizio quarto spaventava, preferisco non andarci perché c'erano tutte le conflittualità. Invece poi quarto ci ha fatto innamorare, ma ci ha fatto innamorare non degli edifici, ci ha fatto innamorare della problematica. E devo dire che i risultati che abbiamo ottenuto, nonostante tutto, perché la parola nonostante tutto ci deve sempre essere, sono stati secondo me e secondo loro anche clamorosi. È chiaro che potremmo ottenere dei risultati migliori, ma che cosa succede l'idea? E comunque c'è il miglioramento continuo. Succede che chi ha un bisogno trova una risposta. Con fatica, abbiamo il direttore del distretto, il dottor Greco, che sta facendo un grandissimo lavoro anche lì. C'è una casa della salute, c'è. E già quello è stato un risultato incredibile, perché è funzionante. Se ci siete stati è anche gradevole da tutti i punti di vista. Abbiamo ristrutturato un padiglione che era in abbandono, abbiamo dato dignità a quei posti. Il famoso padiglione 21, beh, finalmente è nostro. Ce ne abbiamo messo, però ci siamo anche presi la responsabilità all'interno del padiglione 21 di dire, va bene, noi lo cominciamo a utilizzare con rischi per tutti, vorrei che fosse chiaro. Quindi rischio del sottoscritto, rischio delle associazioni e quant'altro. Ma io ho passato dei momenti lì dentro, purtroppo sempre troppo rari, fantastici, in cui ci siamo visti i concerti assieme, me ne ricordo uno bellissimo di London Valor, avevamo le famiglie, avevamo i pazienti, c'ero io, c'era mia moglie, c'erano tanti amici che sono qui dentro. E questa è terapia, se mi consentite. Questo è far sentire un cittadino sfortunato parte del sistema. Bene, che cosa cambierà? Adesso ho detto che ho parlato meno di 20 minuti, quindi non mi devo rallentare, perché sono a rischio di andare lungo. Cosa cambierà nella nuova organizzazione? Non deve cambiare niente rispetto a questa roba qui. Nel senso che ci deve essere questo concetto in cui il cittadino entra all'interno di una struttura e trova le risposte. Adesso noi stiamo sperimentando una roba di cui non ne frega niente a nessuno, vorrei che fosse molto chiaro, però noi stiamo provando a cercare di dare delle risposte al cittadino a Recco. Abbiamo aperto un ambulatorio sul paziente over 65. È un po' una pre-PNRR. Al netto che io prima dell'estate, almeno in uno dei puoli della città, voglio partire con una vera casa della comunità operativa al 100% e quant'altro. Però abbiamo messo un ambulatorio in cui il paziente anziano, comorbido, quello che poi a un certo punto noi medici, e lo dico io per primo, ho fatto meglio il tuo amico, alzo le mani, al pronto soccorso, perché finisce così, perché non hai più armi in mano per poter seguire il paziente di un certo tipo, può trovare la risposta, che è una risposta sociale, c'è una specie di triage, un ingresso, e siamo partiti, adesso facciamo due giorni alla settimana per vedere come funziona. Il cittadino arriva lì, se è un problema sociale c'è l'assistenza sociale. Se è un problema medico di basso livello, inteso come terapia, abbiamo l'infermiere addetto a questa cosa. Se c'è un problema medico più complesso, abbiamo il medico, in questo caso un geriatra, un internista, che ha la possibilità in tempo reale, oltre a di eseguire l'analisi del sangue in tempo diretto, eseguire l'elettrocardiogramma, eseguire un'eventuale situazione anche di tipo pneumologico, che si presentassero la possibilità di collegarsi in tempo reale con gli specialisti, quindi con il reumatologo, il cardiologo e chi ne ha più nemetta. Quindi voglio dire, abbiamo questo collegamento diretto. Questo chiaramente è indirizzato a tutti i cittadini. Se a quel livello il paziente che è sfuggito dalla rete della salute mentale, ma si individuano dalle connotazioni di questo tipo, all'interno di questa presa in carico, che per ora abbiamo riservato ai pazienti over 65, perché due pazienti su tre che si luogano al pronto soccorso e che fanno le visite ambulatoriali sono over 65 e comorbidi, allora partiamo da quelli che ci impegnano di più, però la filosofia è la stessa. Se c'è un paziente che è sfuggito a questa splendida rete della salute mentale, splendida migliorabilissima, lo dicevo prima ad Amedeo, vorrei che fosse chiaro che qui noi siamo ben lontani da fare le cose fatte bene bene bene, però ci stiamo provando. Quindi direi che la domanda di partenza, come sarà, e io sono d'accordo sulle cose che ha detto Claudio prima, il Casa della Comunità, parte il PNRR secondo me non è una gabbia, ci si è inventato tutta sta roba. Noi, la sanità e vado a chiudere, come oggi non è sostenibile, non è assolutamente sostenibile, questo è il mio pensiero chiaramente. Secondo me i soldi in sanità, la dico grossa, ci sono, bisogna usarli bene e sceglierli come utilizzarli. Oggi non possiamo permetterci più un'organizzazione come ci avevamo dieci anni fa. Dobbiamo cambiarla perché mancano i medici, mancano gli infermieri, ci sono le tecnologie, la telemedicina, la televisione non deve essere un fungo, deve essere il tessuto connettivo della sanità. Qualunque cosa faccio, in psichiatria, in ortopedia, in cardiologia, deve passare attraverso la telemedicina perché ti fa risparmiare tempo, soldi e quant'altro. Ma soprattutto fa risparmiare al cittadino i movimenti, i soldi per il taxi, per l'autobus, il figlio che si deve prendere o il genitore che si deve prendere una giornata di ferie per raggiungere il sito della prenotazione, poi il sito della visita, poi il sito della riabilitazione. Dobbiamo farlo con le nuove tecnologie che abbiamo, ma non dobbiamo farlo quando ci sarà il PNR. Perché il PNRR, se siamo bravi, sto parlando dell'Italia, dovrebbe cominciare a partire nel 26. Noi dobbiamo farlo ieri, quindi oggi dobbiamo già usare questo nuovo modo di pensare queste tecnologie. Io scusate, spero di non avervi fatto troppa confusione perché le idee sono veramente tante, ma per dire che l'applicazione del futuro, che ha rappresentato Claudio molto bene adesso, in effetti il gruppo sulla salute mentale, il patto per la salute mentale, l'aveva già affrontata e secondo me in maniera assolutamente vincente dal 2018 ad oggi. Qualche pezzo l'abbiamo perso per strada, ma erano i pezzi meno importanti, quelli che ci credevano di meno. Quelli che ci hanno creduto dall'inizio sono ancora seduti qui al tavolo e ci siete in tanti ancora qui dentro. Grazie. Grazie, ringrazio molto il dottor Bottaro e anche di aver, come dire, in qualche modo approvato un po' quel tentativo di introduzione dell'argomento che naturalmente è molto complesso, richiederebbe magari, che so, un seminario almeno di un'intera giornata con una serie di lavori preordinati. Comunque mi è sembrato molto utile questo primo confronto. Fra l'altro dimenticavo di dire prima che questa serie di iniziative che si svolge al Circolo Zenzero insieme con l'Associazione Ecoistituto e con la Lega Bassa Valvisagno di SPICGL fa parte di un movimento più ampio che si chiama Fronte Comune Ligure per la Difesa della Sanità Pubblica. Perché poi in fondo il vero e proprio punto caldo è quest'ultimo, cioè il sistema sanitario nazionale, quello che è nato con la legge 833, per molti aspetti, ma adesso io ovviamente non entro nel tema, manifesta dei punti critici e rischia di non essere più universalistico, di qualità e quant'altro. E' basato sulla prevenzione e non solo sulla diagnosi e cura. Bene, detto questo, chi parla adesso è il dottor Gagliardi e passo alla parola. Buonasera a tutti. Volevo dare un po' di flash sulla questione della città che cura per capire cosa abbiamo inventato. Non abbiamo inventato niente, non abbiamo inventato nulla di nuovo sotto il sole, è semplicemente l'idea di poter ritessere un pochettino di relazioni e di senso tra un dipartimento, cioè tra i tecnici e i non tecnici. Questo è il punto centrale della città che cura. Città e cura. Sono due, è patto, ma patto lo lascio poi a Giorgio. Le due parole importanti sono città e cura, che io vado a provare a spiegare, insomma. Noi siamo, quest'anno è il centenario della nascita di Franco Basaglia. Abbiamo fatto un sabato a quarto veramente molto importante, di grandissima energia e partecipazione. Saranno passate 300-400 persone. Abbiamo riproposto questa assemblea basagliana. È stata una cosa per veramente grande emozione, grande energia. Il mondo sembra che sta andando in pezzi. Sono tutti guerrafondai. No, lì abbiamo veramente coltivato l'utopia della pace, dell'accoglienza, insomma. Eredi di Franco Basaglia. Cosa vuol dire? Tre indicazioni che dobbiamo far nostre, secondo me, per questa città che cura. La sospensione di giudizio nei confronti di ciò che osserviamo. Guardate che è importantissimo. Basaglia guarda le cose con questa sospensione di giudizio. E ci insegna a guardare che è la sospensione di giudizio fenomenologica. Non è che era uno studioso. E poché? Una motivazione importante nell'incontro con l'altro. Cioè vado a incontrare qualcuno perché ho bisogno di capire me stesso anche. Di chi sono. Non solamente per fare un servizio a lui. Le due cose stanno insieme. E poi una capacità critica nei confronti del potere che si rappresenta in quella relazione. Anche questa è una cosa semplice detta così. Ma lui quando entra nel manicomio di Gorizia dice mi non firmo. Mette in crisi prima di tutto la sua autorità. Perché era il direttore. e l'infermiere che gli dice e cosa facciamo direttore? E lui risponde ne dovremo discutere. Ecco questo è il punto della città che cura. Discutere. Discutere. Discutere e avere la capacità di affrontare il conflitto. Questo è la città che cura. Allora con queste tre indicazioni visto da vicino nessuno è normale. Diventa veramente l'idea che la follia e la ragione non si separano. In ognuno di noi queste due cose convivono. E non si confina la follia attraverso dei muri. Non si può. Non si può. E qui cade il manicomio. Cadono anche i luoghi di cura. Cioè i luoghi intesi che c'è solo lì che si fa cura. Ecco la città che cura e incomincia a emergere. Siamo all'inizio. Non facciamoci illusioni. Siamo tutti. Però incominciamo a fare questa. Esatto. Quindi questo è il punto. E inizia questo percorso attraverso una cosa che si chiama assemblea. Allora l'idea è che la psichiatria non è la salute mentale. La salute mentale soprattutto non è la psichiatria. Allora vuol dire che la salute mentale non è solamente predisporre letti, prestazioni, ambulatori, ma è l'idea di fare dei servizi dei luoghi attraversabili. Capite? Cioè dei luoghi dove si può star bene, dove c'è qualcuno che può ascoltarti, qualcuno che comprende la dimensione della tua vita. E allora in questa cosa che chiamiamo vita dobbiamo contemplare per le persone con disabilità molte cose. Come si abita, il lavoro, il tempo libero, la socialità, l'arte, l'ambiente. Insomma tutte quelle cose che ognuno di noi conosce. Molto semplicemente. Allora il riconoscere il paziente vuol dire poterlo curare nel suo contesto di vita. Allora io incomincio a inserire dentro la città che cura, l'ho scritto sul giornale, domenica è uscito questo articolo, un punto. C'è un rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità. Ci sono 30.000 persone dentro le realtà, come si chiamano, RSA, cliniche, insomma. Sta crescendo, sta crescendo per queste 30.000 persone il tempo di residenza dentro queste strutture. Attenzione, perché queste strutture poi se cresce troppo questo tempo di permanenza non sono riabilitative, ma incominciano di nuovo a essere esclusive. Allora siccome queste strutture assorbono anche davvero più della metà dei fondi, secondo il rapporto, forse bisogna incominciare a costruire dei, diciamo, dare dignità a percorsi di cura diversi e provare a trasformare come quando si è trasformato. Uno dei, lo dico qui perché c'è Luigi che mi ascolta, ma anche voi mi ascoltate, uno dei punti per fare questa trasformazione è il budget di salute. non sto parlando di cose semplici, lo so benissimo, però dobbiamo cominciare a pensare in questo senso. Concludo che l'idea della città che cura è anche non lasciare nella solitudine ai tecnici. Perché? Primo perché la solitudine è una cosa brutta per tutti, non solamente per i pazienti e non solamente per tutti noi, ma anche perché i tecnici, se no, lo dico da tecnico perché io poi sono un operatore anch'io, non del pubblico, ma anche i tecnici poi incominciano a costruire, secondo me, una cronicità. Una cronicità. Questo è stato, è una delle, purtroppo, se si osserva la storia, diciamo, delle istituzioni, tanti tanti anni fa, ricordo Otale De Leonardi su un bellissimo lavoro sulla epidemiologia dell'istituzione, e le istituzioni, purtroppo, per mantenere un po' se stesse, per costruiscono dei loop che non servono poi alla gente, non servono alle persone, non servono ai cittadini. Passo la parola a Giorgio. Grazie. Allora, io sono Giorgio Pescetto, sono presidente, collaboro insieme qui, abbiamo persone più competenti di me, questa struttura che nasce con la legge basata. Proprio nasce lì, nasce con il respiro che aveva la legge basata e quindi doveva avere stesse caratteristiche. Non bisognava fare delle cose escludenti, non bisognava costruire strutture sbagliate, bisognava escludere nessuno da questi percorsi. Ed è per questo, per esempio, che noi abbiamo subito fatto, io non c'ero ancora, abbiamo fatto il coinvolgimento dei familiari e degli utenti con uguale testimonianza, con uguale potere. Perché a volte i familiari sono messi fuori o vengono usati per fare delle operazioni strane. Noi ci siamo trovati di fronte a un'operazione molto strana. Per poter vendere tutte le parti dell'ospedale psichiatrico di quarto era necessario accelerare i tempi. E per accelerare i tempi bisognava accelerare i tempi di come cacciare fuori dalle strutture i malati che c'erano dentro. E se è stata presa la scelta in un provvedimento di una ASL che non è la sua, mi permetto di dire, così parlava. Bisogna che noi mettiamo all'asta tutte le persone che sono curate dentro e daremo il finanziamento a chi chiede meno. Cioè, chi si vende a minor prezzo. Allora, di fronte a questo, allora c'era mio fratello come presidente che ha detto, ma a me puzza questa roba qua. Poi ci siamo incontrati, io e lui, perché io quel giorno ero da un'altra parte, e ci siamo incontrati con un gruppo dirigente, si fa per dire, comunque un gruppo di amici. Parliamo con i familiari. È difficile parlare con gli utenti che sono un po' resettati dentro questa struttura. Chiediamo ai familiari cosa ne pensano. Un'assemblea non facile da gestire. Alla fine di questa assemblea, tutti i familiari, a stragrande maggioranza, causa l'ASL. E se non va bene, anche alla regione. Non sono parole da poco. Una cosa che mi ha fatto molto piacere, l'avvocato che ha seguito, è cambiato il responsabile dell'ASL, ma l'avvocato che ha seguito. Una volta che ci siamo incontrati, finito e tutto, mi si è avvicinato e ha detto, vi ringrazio per quello che avete fatto. Perché avete capovolto un disastro che noi stavamo facendo. Proprio lei, che era quella che ci trovavamo di fronte in tribunale, ha detto, vi ringrazio. Allora, è stata un'esperienza faticosissima all'inizio, perché dovevi riprendere i rapporti con tutti i capoccia. Qualche ad uno ci stava, qualche ad uno no. E abbiamo incominciato a riflettere. Il primo incontro pubblico che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto cercando di portare più basagliani possibili, ma non perché non avessimo persone competenti qua, ma per portare qualcuno che rompesse e ritornasse. Rimettiamoci in gioco. C'è un po' di affetto per certe cose. E noi abbiamo cercato di metterlo in moto, questo affetto. Abbiamo fatto l'assemblea al Gaslini, a Olamagna, che tiene 200 posti, eravamo 500. E li abbiamo messi da tutte le parti, proprio a strati. Però da quel momento abbiamo incocciato lui. E lui ci ha detto, perché non lo facciamo assieme queste cose qua. E abbiamo detto, facciamo il patto per la salute mentale, ma prima ancora la città che cura. Ho detto, lavoriamo assieme, proviamo a lavorare assieme, a mettere assieme. E mettere assieme non è facile, è molto difficile. Ci sono le figure professionali in questo settore. Parliamo dello psichiatrico. Io ho sentito dei convegni dove parlavano di un tema e c'erano tutti gli psicologi, nessuno psichiatra. Un altro tema. C'erano tutti gli assistenti sociali, ma nessun altro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il patto deve ricostruire la collaborazione, che non esiste niente da protagonista. Esiste da squadra. Senza squadra non si va da nessuna parte. E la squadra è una squadra grossa, perché poi ci sono altri personaggi in questa squadra. I familiari. I familiari sono stati per anni tenuti fuori da noi e qualche altra associazione. Abbiamo cominciato a fare i gruppi d'autoaiuto con i familiari, per i familiari, con il loro coinvolgimento. E anche questo non è stato facile. E abbiamo provato a creare delle squadre miste con operatori interni della ASLE, delle varie psicologi, psichiatri, che diventassero l'accoglienza. L'accoglienza di chi arriva, che non sa dove sbattere la testa. Gruppi misti. Formazione insieme. famiglie e operatori delle più varie terapiste della riabilitazione. E abbiamo provato a costruire il patto concretamente. A farle le cose nel patto. Con fatica, perché non è facile. Perché ognuno poi tenta un pochettino a fare i propri interessi, i propri disegni di questo, di quello. I più potenti interessi sono le strutture private, le strutture private che ci sono. Noi abbiamo chiesto di venire ai nostri dibattiti, non sono venuti. Hanno mandato uno che la pensava come noi. Facile, eh? Prendere gli applausi, parlando come noi e rappresentando un altro. Lui, poverino, tra l'altro, ha avuto anche delle disgrazie familiari. Però è stato bravissimo per dire io non parlo di quello che fanno le mie SPA. SPA. Noi l'abbiamo tirato fuori, questo termine dell'SPA. Quando siamo andati a un incontro per parlare in regione, per parlare della necessità di fare lo psichiatrico insieme al sociale, metterli insieme, l'integrazione. E ci siamo trovati, come dire, in una certa difficoltà. Allora ho detto ma cosa vuol dire questo affare qua? Ma chi è che voi non volete? non vogliamo le strutture albergo quando va bene, carcere finto quando non va bene, non vogliamo che restino queste strutture. Bisogna aprirsi, bisogna accorciare i tempi, bisogna cercare di innovare, fare qualcosa che non distrugga l'equilibrio che ognuno si porta dietro. e dice ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire il presidente della commissione? Vuol dire che c'è un business su questa cosa qua, l'ho capito o no? Da cosa l'avete capito? Sono tutti iscritti a Confindustria, vi sembra una tipica struttura sociale a Confindustria? A me no, gli ho detto. Alla fine della riunione, paradossalmente, quelli che mi avevano detto ma no, ma cosa dice? Ma chi gliel'ha detta questa cosa qua? Confindustria, cosa c'entra? Come lo fa a sapere? Ma anche persone politicamente nemmeno schierati con la Confindustria. E comunque noi siamo andati avanti, eravamo io e lui a portare altra questa battaglia e siamo riusciti ad andare avanti. Io ho finito per dire che fare squadra vuol dire farla su tutto. Farla su tutto. Vuol dire costruire dei percorsi comuni, costruire degli esiti comuni, che vuol dire fare altre cose, vuol dire fare le politiche del lavoro, vuol dire fare le politiche culturali, vuol dire fare le politiche dell'abitare. Quella dell'abitare è la più delicata, perché si sono fatte un po' di spazi nelle case popolari. Però non è ancora modificato il modello di casa libera. noi ci proveremo proprio come associazione, perché chi ci ha dato in eredità un grande terreno, un po' l'abbiamo usato per sanare una serie di difficoltà e rimettere tutto a posto. Però abbiamo tentato di fare delle esperienze e bisogna ricostruire il rapporto tra le professioni, il rapporto tra i protagonisti sociali, eccetera. Se andiamo avanti così credo che ce la faremo. e il giorno 8 ottobre io lo dico a tutti, anche nel recente convegno ho fatto un solo intervento, ho detto a tutti quelli che erano lì erano circa 250, io vi conosco, chi non viene l'8 ottobre lo marco e si sono messi tutti a ridere ma non si rideranno se l'incontro dopo che loro non sono venuti. Arrivederci. Ecco, grazie. Direi che pur nella brevità degli interventi mi pare che sia stato detto un po' da tutti i relatori qualcosa di molto interessante e anche mi sembra di capire convergente. Ecco, colgo quest'ultimo spunto del dottor Piacetto che ha parlato del fare squadra, fare squadra che appunto era un riferimento che facevo anch'io all'inizio a proposito dell'équipe multiprofessionale che dovrebbe essere l'anima e il cuore insomma delle nuove case della comunità. Quindi non più vedere un professionista relativamente isolato per quanto bravo professionalmente organizzato ma un'equipe multiprofessionale. questo mi riferisco alle cure primarie quindi quel parallelismo che io ho tentato di proporre. Ora qui apriamo il dibattito e tra gli altri vedo qui presente naturalmente l'ha già detto il direttore generale il dottor Pucci che quindi se vuole Pucci scusa se vuole fare un saluto e poi vedo anche il dottor Greco che è direttore del distretto di Devante che se poi vuole dire anche lui due parole e poi diamo subito la parola a chi ha chiesto di intervenire. Tanto grazie sono qui veramente per salutare e per incontrare perché come è stato detto l'unico approccio che ha senso è quello di incontrarsi discutere confrontarsi e cercare di trovare delle soluzioni delle soluzioni che non possono essere magiche. Quello che mi ha colpito stasera è la passione che ho visto ancora in voi tutti e tre e questo secondo me può essere l'unico motore o l'unico combustibile valido per riuscire a portare avanti i progetti che abbiamo. È stato ribadito da più parti l'importanza dell'integrazione sia per quanto riguarda i nostri pazienti integrazione nel tessuto sociale nella cittadinanza. Purtroppo dopo tanti anni io vedo nuovamente una riemersione della valenza dello stigma nei confronti dei pazienti e degli operatori della salute mentale e questo mi fa un po' paura. Nuovamente si sta riafformando una tendenza o alla criminalizzazione del paziente psichiatrico cioè se uno è un paziente psichiatrico potenzialmente è pericoloso o alla psichiatrizzazione dei criminali se uno commette un delitto efferato non può che essere matto e questo è quanto di più terribile quanto di più terribile contagioso e attenzione che i media cavalcano facilmente quest'onda perché fa notizia fa notizia quindi integrazione da parte comunque dei pazienti e poi integrazione da parte dei professionisti mi compiaccio di una cosa rispetto al poco che ho fatto io sono qui dal 2015 arrivo da Torino non conoscevo nemmeno Genova e ho rischiato di perdermi e rischio ancora di perdermi tante volte non solo per quanto riguarda gli aspetti urbanistici perché è una città veramente molto eterogenea la prima volta che mi è capitato di andare da da Levante io dirigo un servizio che è quello di Bolzanetto e della Valpolcevera mi sembrava di aver attraversato tre città completamente diverse l'una dall'altra l'una dall'altra proprio anche da un punto di vista urbanistico ma dell'aria che si respira integrazione professionale dicevo una delle poche cose di cui posso compiacermi è che quando sono arrivato ho trovato un servizio molto impostato sull'approccio ambulatoriale cioè ognuno vedeva i suoi pazienti ogni mezz'ora nel proprio studio gli assistenti sociali stavano per conto loro non si alzavano dalla scrivania si facevano passare le telefonate gli infermieri erano addetti alla copertura del servizio e alla alla somministrazione di farmaci cioè ognuno impaludato nel suo ruolo quello che mi piace oggi forse grazie anche al turnover che c'è stato un'equip molto giovane e il fatto che nessuno si isola più cioè io mi ritrovo ed è questo cui dobbiamo puntare con degli assistenti sociali che vanno a fare le visite domiciliare perché sono i pazienti sono seguiti in equip infermieri che fanno riabilitazione partecipano ai gruppi di riabilitazione e psichiatri che non esitano e psicologi che non esitano a metterci in gioco anche rispetto a tutta una serie di attività che non li vede appunto con il cartellino e l'etichetta credo che il discorso integrazione sia l'unico che può avere un senso tutto il resto voglio dire porta alla deriva e porta di nuovo al rinforzo dello stigma almeno questa è la mia opinione grazie allora adesso apriamo gli interventi dal pubblico il primo sì ma do subito la parola prima al dottor Calderaro che ha già chiesto di intervenire prima poi se non sbaglio c'è Antonio Manti che si è prenotato sì sì l'ho chiamato sì dopo il dottor Manti diamo la parola ok allora dopo il dottor Calderaro chiamiamola signor beh cosa dire intanto sono d'accordo con gli interventi che ci sono stati e credo che ci sia speranza perché le cose possono migliorare perché è importante che le cose migliorino e ce lo dobbiamo dire con grande franchezza abbiamo onorato con una bellissima assemblea l'altro giorno giustamente Franco Basaglia e però nello stesso tempo una cosa che mi ha colpito che nel mentre un po' dappertutto e mi sorprende anche per chi come me ha avuto un rapporto anche importante con Franco Basaglia l'ha conosciuto che era giovanissimo regio Calabria l'ho anche un po' frequentato voglio dire mi colpisce il diffuso sentimento che è circolato in questi giorni dappertutto si celebra Basaglia con due o tre incontri al giorno in tutti i posti e io mi fa piacere ma non me l'aspettavo in un momento in cui la sanità ce lo dobbiamo pure dire cominciare dal nostro caro direttore a cui facciamo bene la sanità non va bene bisogna che rifacciamo il punto della situazione poi ci sono le isole felici i posti lui Luigi poi ricorda giustamente però in generale ci sono delle aree di sofferenza anche nel campo della salute mentale che bisogna andare a individuare dove è Picci bisogna andare a individuare perché ci sono differenze tra posto e posto e se non si fa questo se chi lavora in questo campo non è contento noi abbiamo vissuto una stagione felice io ho vissuto una stagione felice nel campo della salute mentale oggi ci sono molte cose che invece vanno riviste e io mi voglio limitare a dire oltre che l'importanza che riguarda Picci di andare a vedere dov'è che c'è carenza e la gente che sta male sta male anche nel servizio che io ho diretto per vent'anni e quindi ho notizie anche dire e mi dispiace molto a volte mi capita di dire ho costruito sulla sabbia se la situazione è questa abbiamo fatto cose anche importanti sette anni a quarto poi sul territorio di Albaro in via Pisa e poi anche al CSM di quarto secondo me se vogliamo ricostruire però bisogna che ci sia un nodo che deve essere chiaro tutto il discorso la città che cura è la prospettiva inevitabile è un polo fondamentale grazie a loro tre questa cosa è partita e sta andando bene grazie a loro tre nello stesso tempo però ci deve essere un altro polo che in modo dialettico agisca con questa cosa qua e l'altro polo sono i servizi di salute mentale che allo stato delle cose vanno un pochino ripensati voi già avete fatto un riferimento sul budget che è speso molto per le strutture riabilitative un discorso in generale va fatto anche sul rapporto tra i servizi di salute mentale e gli SPDC questo acronimo che resta orrendo dal mio punto di vista è ossimorico servizio cicliatico di diagnosi e cura andremo un giorno all'altro torto perché servizio non è reparto e sono diventati reparti dappertutto il reparto non si va perché ti devono fare la diagnosi in qualsiasi cicliata anche di medio livello dopo un po' che ha studiato è in grado di capire se uno è borderline psicotico chitofrenico ci mette un secondo se è depresso grave poi lo vedi in faccia non è manca il caso che gli faccia una domanda quindi voglio dire la diagnosi non è la cosa fondamentale è naturale che tu capisca quello che c'ha e gli dai anche i farmaci che occorrono ma se tu non capisci che lì c'è una persona che ha avuto un'interruzione nel suo percorso di vita che ha avuto una rottura a un qualche livello e se non ci metti altro che diagnosi in mezzo a come ha fatto Basaglia la biografia c'era uno slogan che usavano che io considero delle persone di riferimento sia Basaglia che Slavic prima e dopo una diagnosi c'è una storia di vita della persona io non ho mai visto due depressi uguali o due sfidofrenici uguali ognuno ha una storia a sé e questa cosa qua va valorizzata in un rapporto in cui c'è l'ascolto come è stato detto da tutti voi c'è la partecipazione emotiva l'ha detto bene poi a Medeo poco fa se non c'è empatia nel rapporto non si va da nessuna parte non basta l'ascolto c'è la partecipazione anche la sofferenza del terapeuta che soffre i problemi del paziente e qui voglio concludere su una cosa che è una speranza allo stato delle cose perché un servizio funziona ci vogliono due cose prima che bisogna auguri a Bici bisogna provare ad allevare dei nuovi leader c'è un rapporto dialettico che passa tra il leader e il gruppo se non ci sono dei responsabili dei servizi che sono innamorati del loro mestiere che quando parlano sono autentici la gente capisce che sta parlando di una cosa che lo riguarda dentro che non è soltanto che tu sei il primario e devi fare quella funziona tu ti stai giocando lì come ha fatto Basaglia e come molti di noi hanno fatto in quella stagione felice ti stai giocando una cosa che per te è importante e nel posto in cui sei tu quella cosa devi riuscire a portarla avanti nel modo migliore questo è fondamentale però un leader non vive senza un gruppo che deve poter allevare e il gruppo non vive senza leader le due cose vanno insieme allora bisogna rifare davvero il punto della situazione creare una situazione non più di sofferenza perché la gente abbia piacere di fare sto mestiere come l'abbiamo avuto noi in questo momento poi c'è stato anche il covid io non avrei nessun piacere devo confessare di andare a fare pronto soccorso anche se prima di fare lo psichiatra ho fatto pure un anno di chirurgo mi era nemmeno dispiaciuto pronto soccorso insomma come è andato col covid non è un luogo insomma che uno ci andrebbe volentieri allora bisogna davvero ripartire dalle situazioni reali i servizi caso per caso come funzionano e in qualche modo costruire delle situazioni in cui ci sono dei responsabili che siano appassionati di quella loro postazione che in quella postazione c'è la tua vita che te la stai giocando perché ti piace fare questo insomma e dall'altra parte se non cresce un gruppo è una cosa veramente ultima che dico una cosa fondamentale che non accade più i servizi di salute mentale funzionano se quando ci si incontra la mattina tutti i vari multiprofessionalità medici psicologi infermieri educatori eccetera si incontrano mezz'ora perché voi bisogna anche lavorare si incontrano mezz'ora come facevamo noi in via Pisa per poter ascoltare le situazioni più critiche dei pazienti i pazienti che stanno molto male i pazienti che possono come dire anche avere una rottura psicotica e poter essere aggressivi verso se stessi o verso gli altri se vogliamo come dire fare questo ci vuole davvero una responsabilità e una conoscenza delle cose perché se ti arrivo in un servizio di salute mentale come poteva capitare alle sette di sera una persona in crisi psicotica e si è in servizio normalmente in tre o quattro persone è un cavolo poter intervenire se tu invece dico hai un servizio preparato e sai che ci sono il rapto sulla follia ogni tanto spunto sui giornali è una stupidaggia non esiste nessun rapto sulla follia le persone che fanno qualcosa dico sono persone o perché non sono seguite oppure perché non si è visto che stava montando da una settimana che quello stava male e invece di vederlo una volta la settimana magari lo vedi tutti i giorni e non sono tanti magari sono quattro o cinque che stanno male ma quelli là dobbiamo saperlo tutti che bisogna fare se non c'è questa consapevolezza questo stato di tensione nei servizi e bisogna ricrearla questa cosa se no non si va da nessuna parte grazie grazie anche di questo intervento basato proprio sull'esperienza di molti anni ora proseguiamo con gli interventi c'è la collega laggiù in fondo Simona ecco do la parola a lei intanto chiedo ad Antonio Manti di avvicinarsi anche non volevo togliere troppo tempo ma mi sono sentita molto sollecitata intanto ringrazio Natale la seconda volta che ci vediamo evviva Basaglia quindi però mi sono sentita molto sollecitata perché non so qua a parte il nuovo capo dipartimento penso in servizio attivo non so quanti operatori ci siano del servizio pubblico dove lavori a quarto fa piacere io lavoro al CERD quindi servizio per le dipendenze della Val Bisagno quindi anche questo territorio in maniera particolare da 26 anni questo mese e prima lavoravo in ai servizi sociali nell'area tutela no non mi ricordo davvero eri di sopra di sopra e e prima ancora in un piccolo comune quindi voglio dire non è che proprio arrivo da niente e un po' mi considero per fortuna erede di quella scuola di Natale ok e sono della generazione degli ultimi eredi di quella scuola qui o la possiamo noi questo tipo di cultura questo tipo di approccio questo tipo di ehm pensione ieri era la giornata mondiale del servizio sociale ed era intitolata al Buon Vivir questa attenzione al benessere dei singoli e delle collettività moriamo con noi il verbo che sento di più in ASL in questi ultimi anni è il verbo cupizzabile quello che viene richiesto a me tutti i giorni interventi possibilmente che possano passare attraverso prenotazioni cup nella salute mentale nelle dipendenze e nella neuropsichiatria infantile perché questo è il DSM sono sei servizi di salute mentale con SPDC SPCR centri diurni e e CAUP sono sei SERD con le articolazioni sono sei neuropsichiatri infantili allora la tensione di questi ultimi anni è verificare gli interventi e non i processi e non il tempo che stiamo con le persone il tempo in cui pensiamo le persone e le loro famiglie questo tempo non c'è più Natale non c'è più questa cosa qui non è cupizzabile non la puoi segnare come intervento da nessuna parte quindi se io passo quattro ore in ospedale a parlare con i medici a parlare col paziente a parlare con la rete del paziente è visita in ospedale punto che io ci stia cinque minuti o ci stia tre ore questa cosa non viene quantificata questa tensione a rendere tutto identificabile e cupizzabile ha fatto sì che nel corso di questi ultimi anni l'azienda potesse mettere alcuni di questi interventi a pacchetto a pagamento la logica a livello nazionale dei bonus ok il buono psicologo eccetera eccetera anche qui se una persona ormai arriva alla salute mentale con la prenotazione la richiesta del medico di medicina generale o del pediatra se è piccolino di libera scelta la neuropsichiatria infantile ha intanto da fare questo passaggio che prima non esisteva al CERT fortunatamente ancora la porta è sempre aperta no ma è nato in quella logica lì ci state è perché ci state riducendo le ore perché quando io sono arrivata a lavorare al CERT direttore generale eravamo sei assistenti sociali adesso siamo due e mezzo e parlo della mia professione ma così i medici così gli educatori ci sono tutti concorsi in corso tutti quasi tutti sì sì lo so abbiamo incontrato la nuova direttore sociosanitaria e anche a lei ho detto quello che sta dicendo ha detto anche molto bene Natale il limite perché non sono i soldi evidentemente che ci fa rimanere in questa azienda a gente della mia generazione perché i giovani ci stanno passano se ne vanno se trovano di meglio ovviamente il limite della dedizione e del volere stare con tant'è che sono venuta qua stasera nel mio tempo libero vero quindi non è timbrare il cartellino per me è lo stato di salute mio è lo stato di salute dell'operatore non si può andare oltre questo limite non si può chiedere di più perché di servizi territoriali ultimamente ci si ammala allora avevamo chiesto 28 saranno 13 una politica di investimento una politica sul primo strumento dei servizi territoriali e delle relazioni d'aiuto sono gli operatori è quello il primo investimento noi siamo il primo strumento poi è verissimo il discorso che lega a non vedere più la collettività e vi compreso la persona che in quel momento è portatore di un disagio all'interno di quella collettività e diventa subito business ma la rinforziamo questa logica del business no? anticamente era più un business legato a che ne so la chiesa cattolica ai grandi istituti nazionali adesso è un business è passata la nuova legge tra l'altro sull'impresa sociale e non è più neanche il terzo settore non è neanche più quella roba lì è impresa sociale con i criteri dell'impresa sociale allora io mi chiedo tendiamo tutti a quello che voi avete rappresentato ma qualcuno ha delle responsabilità più più grossi più significative cioè chi ci sta dirigendo ha questa grande responsabilità citando Spider-Man allora io prendo un attimo il posto di Claudio Culotta che è dovuto scappare via però si sente? volevo fare un piccolissimo intervento intanto volevo sottolineare come il fatto che Quarto non sia stato privatizzato è che la città che cura dobbiamo dare come dire renderne merito molto a a dei signori come ma non mi interessa Amedeo eccetera alla società civile che si è battuta contro la privatizzazione di strutture pubbliche e io penso che anche le istituzioni dovrebbero essere negrate e pensare di valorizzarlo di valorizzare il contributo della chiamiamola società civile delle associazioni dei dei movimenti delle persone come qua allo Zenzero che si incontrano per perché vogliono che i servizi funzionino funzionino meglio ecco io soltanto volevo dire una cosa mi ha colpito un passaggio del direttore generale quando ci parlava dell'ambulatorio infermieristico di Recco pluri pluri io penso che che siano delle cose estremamente interessanti e io come dire vorrei come dire sottolineare il fatto che il direttore generale dell'A3 stia pensando a realizzare cose di questo genere così come in qualche modo mi piace anche se mi sembra una cosa un po' lontana questa idea questa cosa della avremo una casa della comunità entro il il 26 di l'anno 2026 come ci promette il PNNR e che però ci sembra estremamente lontano per cui io penso che servizi di comunità come quelli che come quello che ci hai presentato che lei ci ha presentato o tu ci hai presentato siamo colleghi sì siano cose estremamente interessanti io però mi verrebbe da chiedere ma delle strutture reali di casa della comunità in cui per esempio ci siano i medici di medicina generale perché dovrebbero essere un pulcro dell'assistenza territoriale potremmo provare a vedere se si riescono a realizzare potremmo pensare a delle sperimentazioni di nuova assistenza territoriale in cui i cittadini diano il loro contributo perché mi sembra che anche il contributo dei cittadini possa essere interessante ecco io ho finito ma non voglio rubare il tempo però c'era adesso il dottor Greco se non sbaglio buonasera a tutti io non parlo prima vi parlo da cittadino e poi vi parlo da direttore del distrito 13 perché da cittadino quando sento questi discorsi mi rendo conto che purtroppo non è molto capito il fine del PNRR cioè del DM77 ah scusate cioè quando nella mia visione la cura diffusa non bisogna più ragionare per come si dice Silos no per cui l'assistente sociale fa quello l'infermiere fa quello il psichiatra fa quello il psicologo fa quello no il medico di famiglia fa quello ma è una rete la telemedicina dovrà servire a creare una rete Natale diceva non si vedono le persone ma messa a regime questo tipo di visione è con l'infermiere col medico basta un telefonino per farsi vedere dal medico di famiglia dall'infermiere dallo psichiatra dall'assistente sociale cioè quando si parla di quello che voi dite la città che cura in realtà è la società che cura dal mio punto di vista infatti Amedeo mi può testimoniare qui parlo dal direttore del distretto che comunque io nasco medico dello sport però se voi vi andate a cercare sportivamente con la Patrizia Capurro al Stree io facevo fare attività fisica a pazienti psichiatrici e vi assicuro che quando se venivate l'ho fatto fare lo Champagnat poi alla provincia se venivate ti ricordi no? da te ci siamo ci incontravamo dal timbro ti ricordi alle due io stimbravo e venivo esatto no no io stimbravo a Fiumara no 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 lo facevo in servizio ma stimbravo a Fiumara cioè e vi assicuro che se venivate non capivate chi era l'operatore chi era il medico chi era il paziente ed io lì ho imparato io qui stasera sono venuto per imparare quindi la cosa fondamentale che secondo me deve entrare nella testa di tutti della società è che siamo tutti partecipativi e partecipanti di quello che è la cura di noi perché il matto non il matto tutti diventiamo matti delle volte voglio vedere un semaforo che ti taglia la strada o in coda alla posta tutte queste cose qua basta che venite all'asle a vedere il matice pieno a piede libero i veri matti invece quelli normali secondo me sono i ragazzi che comunque si trovano in una società a quarta adesso quello che io vorrei fare è creare proprio una società normale perché non c'è diversità perché lo stigma il ghetto continua a esserci questo come direttore del distretto quello che poi chiederò per applicazione la casa di comunità in realtà è semplicemente un interpretare in modo diverso quello che c'è già cioè infatti invece che ci sia il servizio di salute mentale il CERD di fianco ci dovrebbe essere un'accoglienza della salute mentale del CERD e ne abbiamo già parlato dove comunque arriva qualunque paziente e viene preso in carica poi questo può avere mano in ginocchio essere fuori di testa o avere delle dipendenze questo deve essere comunque preso in carica l'attenzione della società deve servire a questo cioè la riforma sanitaria prossima deve essere questa perché se no non ce la facciamo perché uno a uno a uno siamo perdenti siamo anche pochi ora qua mi taccio penso di essere stato chiaro? mi chiedo scusa io volevo fare un mini intervento intanto di saluto perché come all'inizio vi ho detto che alle 7 sarei dovuto andare via e purtroppo devo lasciarvi io credo che qui il concetto l'abbiano detto molto bene loro l'ha ripetuto anche il mio amico greco adesso l'ha ripetuto l'abbia ripetuto tutti io credo che qui le responsabilità io sono d'accordo con lei ci sono delle persone che hanno le responsabilità tutti noi vorrei che fosse chiaro che abbiamo responsabilità di tutti noi a qualunque livello allora io sono qui stasera anch'io avrei del tempo libero sono qui a parlare con voi perché questo qui il mio tempo libero i miei spazi voglio dedicarli alla mia professione però attenzione non siamo tutti uguali non siamo tutti uguali perché all'interno delle diverse professionalità io conosco degli psichiatri fantastici che partecipano in maniera incredibile e conosco degli psichiatri meno fantastici conosco dei direttori generali che si impegnano pochi in verità mattina e sera e conoscono altri che si impegnano di meno dei direttori di distretto che anche loro partecipano a questo tipo di situazioni e altri che non partecipano che io devo usare come direttore generale il potere di convinzione il potere di coinvolgimento a me basta sentire parlare Amedeo e l'amico Giorgio io mi emoziono tutte le volte tutte le volte che vi sento parlare pure dal 2018 che vi sento parlare però adesso al di là dei dei discorsi anche di tipo affettivo credo veramente che noi abbiamo tutti una responsabilità certo il direttore generale ha la sua responsabilità sopra il direttore generale c'è un'azienda che si chiama Alisa sopra Alisa c'è una regione che si chiama Regione Liguria sopra la regione Liguria c'è allora ci sono degli interventi che io posso fare lo faccio li faccio magari sbagliando mettendoci sempre la faccia perché io ce la metto sempre mi potete accusare di tutto forché di non metterci la faccia nel bene e nel male però ci sono degli interventi che un direttore generale per quanto bravo non può fare si è parlato di pacchetti e l'avevano proposti anche prima i pacchetti si è parlato di l'ha detto Rocco Picci di aumentata permanenza nelle strutture ma chissà come mai aumenta questa questa permanenza facciamoci delle domande io adesso c'era c'era l'amico Mosca che è andato via ma è paragonabile a quella degli anziani questa storia qui identica identica e allora perché qualche d'uno ha tirato fuori il discorso sanità pubblica almeno su queste fasce oppure mettersi in discussione su quelle che sono le interventi no per me è tutta io non io non demonizzo il privato guarda io non lo demonizzo assolutamente il privato passatemi il termine brutto dirlo ma il privato serio che sta alle regole che fa le cose all'interno di un prezzo giusto ci sono certe attività che potrebbe avere un senso come guardi io adesso vado troppo assolutamente governandole mettendole tra virgolette all'interno di sistemi anche di monetizzazione molto chiari trasparenti e quant'altro però assolutamente è inderogabile che questi servizi che sono i servizi per le fasce più deboli della popolazione per gli anziani assolutamente lì non si può derogare guardate che stanno ci sono dei pronto soccorsi abbiamo i pronto soccorsi privati è inutile che che non che non vediamo questa situazione negli ospedali oramai abbiamo le squadre dei gettonisti è dal 21 se voi andate scrivete bottaro gettonisti vi trovate dieci articoli scritti dal sottoscritto in cui nel 21 diceva basta fine perché qual è la fine della sanità pubblica quindi dicevo bisogna che tutti insieme lavoriamo su questa partita io ci sono accetto le critiche perché se no non sarei qui mi metto in discussione però bisogna che lo facciamo tutti assieme bisogna che tutti assieme ci mettiamo in discussione perché anche e vado a rispondere alla domanda che ha fatto lui medici e medicina generale ce ne mettiamo nel caso ben volentieri ci sono due possibilità ah che ci vengano perché il medico medicina generale non so se ce ne sono qui dentro ma sono dei liberi professionisti se mettete medici e medicina generale bottaro vedete che bottaro sostiene che i medici e medicina generale dovrebbero essere tutti i dipendenti perché io ho la possibilità allora di muovere il medico medicina generale e dico guarda dovresti aprirmi uno studio al CEP oggi mi sento dire mi fanno un gestino dell'ombrello non ci vado perché il CEP è brutto e cattivo nelle case della comunità la stessa cosa ci deve essere una contrattazione perché il medico è convenzionato io dico superiamo questo concetto se io riesco a trovare il medico medicina generale dentro che viene alla casa comunità gli metto anche il tappeto per terra e lo troveremo però dobbiamo tenere il presidente anche che ce ne sono pochi e allora io direttore generale io amministratore pubblico come dicevo prima devo pensare a una sanità diversa perché non ci sono più i professionisti perché quei pochi magari sono contrattualizzati in una maniera tale che non si possono gestire è un'altra categoria intermedia sono gli specialisti ambulatoriali anche questi quindi ci sono delle situazioni e vado a chiudere e vado a chiudere che non possono essere chiuse all'interno di un'azienda per quanto bravo potente sia il direttore generale non ce la può fare perché vanno cambiati i contratti collettivi vanno rimpinguate le scuole di specializzazione va trovato un po' d'amore a Natale quando ti sento parlare quante persone quanti colleghi psichiatri chirurghi ginecologi ragionano il fare il primario come si diceva una volta come te quante questa domanda perché tu dici bisogna creare la situazione io sono nelle condizioni che se prendo una specialità non la citerò dicono guarda che non fanno un minuto di straordinario in più e il problema è che io ho altre possibilità fuori vado nel privato il pubblico l'abbandona capito quello è il discorso quindi non è facile questa gestione quello che dici tu è corretto io sono completamente d'accordo con te però non è facile neanche trovare delle professionalità che abbiano questo skill difficilissimo io scusatevi devo veramente lasciare grazie per l'invito e spero che ci sarà una prossima volta molto veloce grazie mille grazie mille Claudio voleva intervenire grazie grazie arrivederci mi piace dire va bene poi me lo raccontate le risposte no 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 mi sono io sono un medico ma scusate non sono psichiatra oggi sembra che quindi però posso dire che da giovane avevo iniziato il percorso per fare psichiatra quindi un pezzettino certo poi ho pensato che potevo essere più utile occupandomi in salute sul lavoro e ho fatto quel mestiere lì a parte la battuta sul fatto che mi spiace che non ci sia il dottor Bottaro mi sono segnato alcune cose che mi stavano proprio un po' pesanti la prima è ma spero che nessuno di noi come dire voglia avere dare l'impressione che la salute mentale è altro dalla salute sono d'accordissimo con Calderaro il primo problema è che la sanità non va bene inutile che ci raccontiamo che va bene non va bene probabilmente per la salute mentale ma non va bene per la salute a 360 gradi perché non si è voluto che andasse bene perché se la sanità è allo sfascio e in parte lo è è perché si è lasciata andare allo sfascio perché così a molti conveniva inutile che stiamo a raccontarci delle storie insomma io credo che anche parlare delle case della comunità bisogna pensare che per fare le case della comunità bisogna che le comunità esistano siano aiutate supportate informate eccetera eccetera tutte cose che non succedono io sono tra quelli che pensano che noi abbiamo bisogno di una riforma della riforma nel senso vero del termine il DM 77 non è una riforma è un pezzetto ma non è una riforma e la riforma parte prima di tutto da una riforma della cultura delle persone non dei pazienti delle persone perché i pazienti sono persone mi pare ecco sia che siano pazienti psichiatrici sia che abbiano l'ulcera sia che abbiano male a un piede a me pare che questa sia una cosa che non dobbiamo dimenticarci e io sarei per fare dei ponti tra le cose cioè nelle in queste serate quasi tutte interessanti e ben riuscite allo zenzio mi piacerebbe che facessimo dei ponti perché sono tutte cose da mettere insieme non è che poi si fa adesso ci occupiamo della sviluppa mentale chissà in che mondo e poi ci occupiamo di un'altra cosa chissà in che mondo dobbiamo probabilmente fare proprio questa cosa parlare di ponti a Genova porta sfiga però fare ponti tra queste cose ok probabilmente al centro ci dovrebbe essere proprio un recupero del concetto di comunità che vuol dire tante cose vuol dire solidarietà vuol dire valori che sembra che oggi in questa società che si sta non neanche lentamente disgregando non ci sono più e forse recuperare anche in questa riforma della riforma il concetto di servizio prima all'amico culotto dico anche io amico perché qua sembra che siamo tutti amici poi magari gli è scappata la parola sistema sanitario a lui è proprio scappata perché credo che sia ben d'accordo che questa è una cosa orrenda passare da servizio al sistema vuol dire una cosa ben precisa che a molti di noi credo non vada bene al di là dell'ovvio discorso che faceva il dottor Bottaro sul fatto che non demonizza il privato il primo che dice così è l'assessore regionale alla salute che dice io perché demonizzare il privato non è mica il diavolo io tutte le volte che ho potuto interlocuire ho detto ma non è neanche l'acqua santa perché effettivamente poi bisogna vedere cosa intendiamo per privatizzazione della sanità o meglio oggi lo stiamo vedendo quello che succede quindi figuriamoci l'ultima cosa e su questo sono d'accordo con chi l'ha detto a partire forse proprio dal dottor Bottaro che anche nei sognatori come me che pensano a una riforma che vada verso certe concezioni però bisogna anche pensare che queste cose non sono di due giorni e che oggi le cose vanno malissimo quindi bisogna pensare a una serie di soluzioni probabilmente compatibili l'una con l'altra perché se non è un casino ma per dare delle risposte nella salute mentale come in altre cose da subito da domani da mesi perché anche le case della comunità uno dice bene ne apro una tra un anno poi forse tra tre o quattro anni ne aprirò altre due o tre ma che cavolo di ragionamento così non si va da nessuna parte ok quindi probabilmente bisogna mettersi anche dietro a un tavolo e ragionare su le soluzioni da oggi a domani da domani a tra sei mesi eccetera eccetera perché se no rischiamo veramente di trovarci tra tre o quattro anni in una roba spaventosa perché la situazione secondo me nella nostra sanità è veramente brutta e in caduta libera paola c'è la prima la signora sì veramente io sono qui in veste di parente di persona con gravi problemi di un depresso non lo auguro a nessuno con la sanità che c'è mi sono trovata in condizioni veramente di stare molto attenta perché se c'è una malattia contagiosa è la depressione io tendo più all'ansia che la depressione per fortuna mia però vi assicuro che è un ruolo allucinante io ho amato la riforma Basaglia da giovane veramente e ho vissuto praticamente la mia seconda casa era quarto dove c'è stato l'Odin dove ci sono state pagine gloriosi il living veramente le ho vissute però le famiglie cioè non è stata applicata perché non penso che prevedesse poi l'abbandono delle famiglie io mi sono trovata in situazioni veramente tragiche e ho scoperto che questo mio parente abusava di farmaci e sapevo anche che lo spacciatore perché poi uno che si fa a tavolo tutto il giorno ha degli spacciatori logicamente e ho avvisato purtroppo non c'è più il presidente ho mandato una lettera direttamente alla presidenza perché è un reato quello riempire di farmaci di quel tipo ho avvisato l'igiene mentale non mi hanno mai risposto mai mai ero pronta veramente a parlare a veramente avere una relazione ma positiva io sono stata completamente abbandonata quando a volte andavo insieme a questo mio parente dallo psichiatra e ho detto che io ho segnato tutta la vita non sono una psichiatra ma avevo capito benissimo che lui non ce l'avrebbe assolutamente fatta da sola che avrebbe avuto bisogno di un momento di ricovero e lo so che lui andrebbe volentieri è troppo facile mi è stato risposto dallo psichiatra a questo e ora siamo che questa persona praticamente esce ogni dieci giorni per fare la spesa e basta è bloccato in casa non esce più io ho avuto dei problemi miei personali di età e di un intervento e è abbandonato completamente a se stesso cioè veramente parliamo di tante cose ma veramente e i parenti poi ne soffrono perché logicamente diventa una reazione a catena queste persone i depressi che sono una realtà sempre più diffusa sono veramente abbandonati abbandonati a loro stessi scusate l'intervento la passione ma l'autore è stato niente buonasera a tutti e tanto complimenti a voi non conoscevo niente del vostro progetto io non mi occupo di salute mentale quindi qui sono un po' forse fuori tema e ho fatto la neurologa però ho fatto la riabilitatrice ho fatto la direttrice di una struttura di fisiatria e lavorare in equipe è quello che effettivamente ci salva io l'ho provato proprio nella mia carriera perché il riabilitatore il fisiatra deve necessariamente avere l'apporto di tutti gli altri operatori uno conta uno dell'infermiere dell'os del fisioterapista dell'assistente sociale perché ognuno conosce i pazienti per la sua parte e deve condividere con il medico ci dà le informazioni necessarie indispensabili a curare bene le persone perché noi facciamo il giro magari nel reparto parliamo col paziente cinque minuti lo visitiamo però non hanno neanche la confidenza di parlare con noi di esprimere i disagi che hanno sono anche un po' inibiti ancora molto meno che in passato per fortuna e quindi gli altri operatori ci danno un supporto indispensabile quindi il lavoro di equipi in fisiatria esiste già da tanti anni da sempre se no non potrebbe esistere la fisiatria la seconda cosa che volevo sottolineare è che come il dottor Bottaro abbiamo lavorato anche un po' insieme io ora sono in pensione non va in questa fase storica non possiamo demonizzare il privato perché non possiamo farne a meno adesso è vero che ci siamo arrivati per una serie di errori io lavoro in ospedale ho lavorato per 35 anni è cambiata tantissimo la vita l'assistente sociale ma io no personalmente assolutamente no perché avevo tanta motivazione e ce l'ho avuta fino all'ultimo minuto perché fare il mio lavoro mi è sempre piaciuto nonostante tutte le difficoltà è facile adesso dire quello che non va però dobbiamo anche cercare delle soluzioni non possiamo sempre incolpare la dirigenza il direttore generale anche non c'è quindi non è per giustificare nessuno quello che non è stato detto ma forse non vale nella salute mentale perché non è applicabile è che dobbiamo formare i pazienti cioè il paziente la persona non solo il paziente la persona il cittadino che poi potrebbe diventare un paziente non è responsabile della propria salute in questo paese cioè io ho lavorato tantissimo per cercare di trasmettere queste informazioni bisogna agire sullo stile di vita cioè se il paziente mangia beve non fa attività motoria la persona diventerà un malato questo è un messaggio che non viene tanto accettato nel nostro paese cioè è più facile affidare la nostra salute al medico medico operatore sanitario secondo me quindi oltre che agire su di noi operatori e tutto bisogna anche coinvolgere le famiglie sia nei progetti perché comunque la medicina del futuro è questa e sia il paziente che il familiare è a tutti gli effetti un membro dell'equip ma anche sensibilizzarli e cercare di far capire che in primis siamo noi responsabili della nostra salute troppo facile dire mi mangio la pasta asciutta tutte le sere tanto prendo il diamicro non è così eppure tantissime persone basta guardarsi in giro non hanno cura della propria salute chi fuma chi beve e questo forse noi medici lo facciamo troppo poco però anche la struttura sanitaria dovrebbe occuparsi di formare perché altrimenti andiamo veramente verso una situazione insanabile non ce la facciamo a gestire siamo sempre più anziani sempre più malati e quindi anche questo potrebbe essere un aspetto da considerare non credo per la salute eh esatto io la vedo molto poco la ricerca mi serivisione scusa c'è il dottor Piotti e poi scusa ho anche un intervento ho anche un intervento in chat che sono una serie di accettazioni di Maria Rosa posso leggerlo adesso Bruno mi lasci perché più che altro erano rivolte all'intervento del dottor Bottaro però mi schiace non riportarvelo e sembra di capire al discorso del dottor Bottaro che non pensa che si possano introdurre a livello politico e amministrativo i cambiamenti necessari per potenziare il servizio pubblico e le nuove modalità che si devono inventare con la famosa governance altro non sono che la progressiva consegna al privato dei settori che le imprese considerano più remunerativi mi spiace doverli leggere adesso che il dottor Bottaro non c'è più però mi spiaceva non dare neanche una possibilità di risposta a Maria Rosa grazie non è proprio solo l'organizzazione è proprio la visione quando si parla di medici di famiglia nella casa di comunità io ho avuto delle richieste a Ricco di colleghi medici di famiglia che mi hanno chiesto se possono entrare il problema poi facendo il comitato aziendale con i medici medicina generale è che da un punto di vista proprio normativo però sono in attesa del nuovo accordo collettivo nazionale perché al momento i medici di famiglia sono pagati a quota capitaria e a quota oraria e diventa un bel problema andare a discriminare chi fa cosa dentro le strutture pubbliche o al di fuori quindi non è solo un cambio delle istituzioni è proprio un cambio tutto dovrebbe divisione cambio di paradigma dipendente o tutti convenzionati cioè il problema è che purtroppo non si riesce a gestire quello che dovrebbe essere già gestito spontaneamente dall'operatore cioè volendo far rientrare dentro Reco io non posso far rientrare perché loro stessi i colleghi i sindacati io sono sindacalista io ho una storia complicata ho fatto no ho fatto il medico di famiglia perché mio padre era medico di famiglia come Giorgio sa poi sono specialista ambulatoriale medicina dello sport ora sono direttore del distretto 13 quindi sono dipendente io ho fatto tutto nella mia vita medico scolastico prelevato tutto il problema è che c'è questa confusione in chi fa cosa perché effettivamente ti trovi poi con avere difficoltà nell'organizzare un qualcosa è come se mi permettete nello sport un allenatore di qualunque gruppo che deve andare a organizzare atleti che poi in realtà si rifiutano o che pongono delle decisioni loro vogliono decidere cosa fare o non sono in condizioni di fare quello che dovrebbero fare perché dicevo prima la società che cura perché in realtà bisogna passare oltre il paradigma della cura bisogna andare a quello che è effettivamente l'attenzione sulla persona la signora col parente con problemi se ci fossero delle strutture sociali i circoli arci di una volta cioè i dopo lavoro dove trovano altre persone questo vale anche per le persone anziane che magari sono sole perché in Liguria poi particolarmente siamo passati da una società industriale a una società commerciale di terzo settore per cui tante persone sono sole e stanno in casa e non sanno dove andare a perché rischiano la rapina la violenza o non ci sono i mezzi cioè dovrebbe essere un cambio di paradigma proprio di società che cura dando a disposizione di chi ha bisogno di quelle risorse che servono perché non peggiori questa persona perché quando vai a curare uno con le medicine già è tardi secondo me perché comunque ormai è un rallentare la vita una malattia cronica rallentare l'exitus noi dobbiamo arrivare a vivere nel miglior modo possibile e questo non si può fare con i medici o singolarmente poi mi taccio non vi voglio fare dovrebbe essere fatto dalla società la società purtroppo permettetemi è più individualista possibile e se uno ha delle difficoltà da solo perde in compagnia si distrae non fa attenzione quando vi dicevo se sopravvivo a quarto sopravvivo al distrito 13 e Amedeo vive delle volte con me la realtà io vorrei creare proprio a quarto un'inclusione ci sono i giardini ci sono degli spazi bellissimi guardarli e tutti siamo uguali cioè io quando vado al bar a fare colazione dai ragazzi che sono pazienti psichiatrici sanati loro sono consapevoli di essere pazienti sani sono più sani di quelli che io incontro normalmente o che mi chiamano magari per fare all'URP la lamentela poi io li chiamo li faccio tornare sulla terra e sono persone normali siamo tutti normali ma se la società non entra in questa visione e c'è sempre ti do i soldi perché hai bisogno dopo di me piuttosto che la grave disabilità piuttosto che i soldi come vengono usati vengono sprecati perché non c'è come fra virgolette spenderli bene questo è il problema ma quando ci sono anche lì poi sono poche risorse che vengono distribuite male o bene ma poi in realtà cosa portano questi soldi dovrebbero portare un benessere quindi da un punto di vista sanità il paradigma che il DM77 vorrebbe superare è proprio questo individualizzazione questa parcializzazione dei servizi quindi il medico di famiglia dovrebbe collaborare con l'infermiere di funguità e famiglia con lo specialista ambulatoriale con l'assistente sociale che era quella che diceva la collega che in realtà è sempre esistita perché il medico da solo fa il medico ma il farmacista dà le medicine l'infermiere fa la puntata diciamo passatemi il termine senza snaturare o sminuire a ciascuno il suo purtroppo adesso invece per l'obby secondo me ognuno ha voluto tenere il suo potere e quindi come dicevi tutti andiamo fuori questi o gli altri purtroppo la società tende a creare questi silos perché lì c'è il business come diceva la collega come diceva Giorgio e se non cambia questo paradigma a livello centrale e non so se ne avremo la forza l'unica possibilità di morire meno peggio entrare come società civile come diceva la collega come cultura nostra in questo in questo loop positivo se mi permettete il termine scusatevi se mi sono dilungato però io mi vivo quotidianamente questi problemi e basta basta un po' di comunicazione un po' di attenzione un po' di accoglienza e tutto si risolve si è risolvibile se no ci sono i percorsi di cura quello che si fa si può quindi non ci sarebbe più la prescrizione inappropriata la medicina difensiva se tutti ragionassimo che uno fa il bene dell'altro perché uno che fa il nostro lavoro per forza deve essere vuotato al bene degli altri se no dobbiamo cambiare il lavoro scusate mi scusa è una cosa interessantissima io però dobbiamo chiudere io do la parola adesso a Bruno Piotti e poi al dottor Picci che vuole dire ancora due parole allora bisogna che sia veramente allora in condizioni di parlare in cinque minuti di tutti gli argomenti che sono che sono usciti praticamente è una sfida impossibile allora comincio col dire per fortuna che esiste il patto per la salute mentale per fortuna che possiamo partire da qualcosa che è già reale perché alcune volte i discorsi che sono stati fatti purtroppo anche dal direttore generale oppure anche dal dottor Greco adesso adesso mi spingono a dire ma come mai siamo stati così sfortunati di vivere a Genova invece se potessimo andare soltanto vicino a Lucca o a Firenze o a Parma o a Reggio Emilia sarebbe un'altra società o a Lisbona o a Lisbona in Portogallo sarebbe un'altra società è chiaro che sono assolutamente convinto che il problema dell'individualismo e del consumismo si riflette anche in tutto quello che noi stiamo cercando di parlare e di dire sulla sanità però non nascondiamoci rispetto all'ordine delle responsabilità e delle responsabilità specifiche cioè qui a Genova non c'erano e non ci sono le case di salute mentre invece dal 2010 ci sono vicino a noi basta andare qualche chilometro e ci sono le case di salute dove il lavoro multiprofessionale il lavoro di equip si fanno dal 2010 e siamo al 2024 allora come mai questa cosa sta succedendo ma secondo me perché non c'è stata la capacità di programmare assolutamente sul pubblico e si è lasciato la sopravvivenza al privato qua non si tratta di demonizzare il privato anche se volessimo il privato non lo possiamo mica estinguere non siamo mica nei soviet non c'è mica Stalin o Lenin che possa eliminare il privato nei prossimi tre mesi qui non si tratta di eliminare il privato si tratta di non basare lo sviluppo del servizio sanitario nazionale sul privato facendogli fare ancora altri affari è questo il punto e per contrapporsi a questo andazzo non c'è altro che programmare e allora altro che 2026 ragazzi la regione Liguria Alisa ASLA 3 hanno di fronte a sé una responsabilità precisa ci sono sei distretti sei distretti nella ASLA per circa 100.000 persone ciascuno di questi distretti deve avere una casa della comunità hub e almeno due se non tre case della comunità secondarie ma dove sono questi piani dove sono queste volontà di fare non si tratta di invitare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno lo stesso contratto sia in Toscana sia in Emilia Romagna sia in Liguria perché noi abbiamo visto con i nostri occhi dell'equip di 7-8 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta riunirsi lunedì mattina e parlare insieme dei pazienti insieme a 15 infermieri l'infermiere della comunità quello che fa l'assistenza domiciliare e il comune e il comune i servizi di assistenza del comune ma ragazzi ma ragazzi certo ma è certo è certo sì però Giorgio è innegabile che siccome non basta un sindaco siccome non bastano una giunta ma c'è una storia noi le persone che lavorano nell'assistenza sociosanitaria dei comuni lì dobbiamo mettere in queste cavolo di case della comunità perché se non gliele mettiamo tutto quello che poi rischia di fare è di uscire fuori un fiore all'occhiello per la salute mentale che riesce a fare delle cose che gli altri non fanno e qui viene fuori ecco ecco benissimo allora bruno ripeti i discorsi di Giorgio perché Giorgio non è microfonato non sentiamo scusami bene comunque io ho finito servizi sociali al comune di Genova cioè personale che facesse servizi sociali per alcuni anni non c'è stato lui parlava di cosa si può fare a Genova sì io mi domando io mi domando adesso ovviamente tanto non risolviamo tutto questo oggi e questa sera io però mi auguro che non solo l'otto l'otto di ottobre ma nel proseguo di questi mesi si sviluppino delle iniziative che coinvolgono una mobilitazione che vedano gli operatori sanitari assumersi la responsabilità che c'è una legge c'è un decreto legge c'è una realtà che si muove intorno a noi e cerchiamo di aprire questi occhi e di metterci nell'ordine di idee che le responsabilità che abbiamo per creare dei servizi a Genova nella Asla 3 così come in tutta la Liguria sono responsabilità collettive per cui non demonizziamo nessuno e non diciamo che nessuno è impossibile che lo faccia però bisogna avere un atteggiamento assolutamente più dinamico aggressivo e a partire dalla coscienza del punto di partenza che è quello per cui non esiste una casa della salute porca miseria e non esiste una casa della comunità scusa però io vorrei dare la parola al dottor Pici perché no proprio solo due parole io non entro nel merito al discorso politico perché come dicevo io non conosco così bene la storia di questa città e di questa regione mi confronto però con un presente presente è assolutamente problematico problematico da tanti punti di vista si parlava di creare una cultura non si inventa una cultura dall'oggi al domani di sensibilizzare o motivare la motivazione non è che si sveglia al mattino e così ce la ritroviamo improvvisamente addosso o siamo diventati più sensibili rispetto a certe realtà allora ripeto benvengano queste situazioni è chiaro che ci sono delle situazioni in questo momento che sono critiche l'aspetto più critico è la carenza di personale ma non solo di personale che venga assunto di personale che possa essere assunto mancheranno per alcuni anni tutta una serie di figure specialistiche e di operatori sanitari quindi tutti i progetti che possiamo fare in questo momento riguardano se vogliamo veramente essere un po' visionari il futuro e mi auguro che ci sia qualche visionario così come lo è stato Basaglia a suo tempo è veramente perché altrimenti dopodiché la realtà con cui ci confrontiamo oggi come oggi è una realtà sostanzialmente di ripiegamento sul proprio bisogno che sia il singolo individuo e purtroppo la pandemia non ci ha aiutato guardate cosa è successo come evoluzione proprio da un punto di vista di sensibilità collettiva all'inizio del lockdown si diceva che sarebbe nata una nuova era di solidarietà tra cui c'è un livello di rabbia in giro e di individualismo che fa paura fa paura e questo sì rabbia intesa ma questo non riguarda solo il comune cittadino riguarda anche gli operatori e l'altra cosa che sta succedendo è che sempre più ci si isola in comportamenti stagni allora non ero ancora direttore di partimento un giovane un minore ricoverato in SPDC otto mesi in attesa di trovare una comunità disposta ad accoglierla ma signori ho un paziente che da quattro anni è un disabile ricoverato in SPDC un grave autistico perché non c'è una struttura disponibile ad accoglierla e qui sì che dobbiamo andare a colpire il privato nel senso che in questo momento del privato non possiamo fare a meno perché non abbiamo alternative ok ma non possiamo essere così ricattabili e prigionieri cioè in questo momento le strutture dicono noi questa tipologia di paziente non la prendiamo e dove rimane in SPDC a che costo a 800 euro al giorno e così c'è tutto il discorso anche dei compartimenti stagni è inutile pensare di andare avanti con una neuropsichiatria che si occupa di persone finché non compiono il diciottesimo anno di età e poi passano alla salute mentale o passano ai disabili e il servizio per le dipendenze si occupa esclusivamente di persone che hanno come problema prevalente la dipendenza tanto se non viaggiamo assieme ormai non troviamo più il paziente psichiatrico puro e il tossico dipendente puro questo sia ben chiaro sono problemi che investono tutti come il rapporto mi lasci finire signora come il rapporto col comune hai assolutamente ragione perché i pazienti rimangono nelle comunità terapeutiche ad oltranza perché magari quando potrebbero passare in altre strutture che sono RP o RSA è richiesto il contributo di solidarietà e chi lo deve passare se il reddito comunque del cittadino è basso e non ha la possibilità lo eroga il comune e quando il comune finisce i fondi il paziente rimane in comunità a costi altissimi a costi altissimi allora è questo sistema che noi possiamo rivedere su questo possiamo e dobbiamo fare delle cose questo sia ben chiaro su tutto il resto sì mi auguro in futuro io sarò già in pensione da qualche tempo però lavorare per su questo sono assolutamente d'accordo non possiamo neanche così ripiegarci su questo presente critico e non pensare a un domani scusate le infasi ma io chiudo perché dobbiamo chiudere ma io credo che siamo pieni di contraddizioni cioè siamo arrivati siamo arrivati con delle scelte molto sbagliate lo raccontava la gara al massimo ribasso su pazienti a lotti di 20 era proprio il punto di caduta emblematico abbiamo riniziato da lì abbiamo riniziato da lì e certamente siamo pieni di contraddizioni però secondo me è importante costruire tra chi crede ancora in un servizio pubblico anche nelle differenze una rete una rete amicale sociale perché altrimenti non ce la facciamo non ce la faremo non ce la faremo ragazzi e dobbiamo costruire questa rete per imparare a superare le contraddizioni l'apprendimento è molto importante perché è difficile immaginare la visione è una cosa importante però poi c'è un'azione e l'azione si muove dentro la contraddizione inevitabilmente Basaglia è stato un grande in questo senso perché ha accettato la contraddizione e pian pianino pian pianino l'ha smontata l'ha smontata e ha fatto una riforma importante comunque grazie a tutti allora volevo comunicare soltanto come comunicazione che giovedì prossimo incontreremo il direttore la direttrice del distretto sanitario Bassavalbisagno che ci parlerà delle cose che questo distretto offre alla cittadinanza e seconda cosa il prossimo incontro lo verterà sul tema dei consultori come i consultori dovrebbero essere potrebbero essere sì qua lo zenzio no 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 cioè è una data da definire